Signori, per un ultimo video di Mr.Bakomesson, questo non è che metto niente e oggi torniamo a parlare di animali oggi vi voglio spiegare cosa sono gli artropodi sarà un video molto semplice, molto veloce vi spiegherò semplicemente in poche parole cosa sono gli artropodi cosa sono gli artropodi? molto semplicemente gli artropodi sono è un gruppo che racchiude tutti quegli animali che sono detti invertebrati ossia animali che non possiedono una colonna vertebrale o uno scheletro interno quindi possiamo andare a parlare di invertebrati ossia di artropodi né tutti gli insetti quindi fasmi di quegli insetti stecco, insetti foglia possiamo parlare di invertebrati possiamo parlare quindi di coleotteri miriapodi vespe qualsiasi tipo di insetto anche gli ortotteri sono invertebrati quindi sono artropodi gli arachnidi quindi i ragni, scorpione, zecche addirittura anche gli acari i solifugi, gli amblipigi e addirittura arriviamo a toccare anche i gastropodi, molluschi e crostacei come granchi, gamberetti quelle cose lì tutti questi animali qua sono detti invertebrati ossia animali che non hanno una colonna vertebrale o uno scheletro e gli invertebrati sono racchiusi in un gruppo chiamato artropodi detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto è stato un video così velocissimo proprio fast and furious apri guardi chiudi ciao buona a tutti e noi come sempre ci vediamo un prossimo video da Mr.Bug è tutto buona ragazzi ciao ciao ciao